Applausi, sorrisi ed emozioni, nessuno spazio alle polemiche, sabato scorso per Missione Drag, show a cura di Music and Movie e del suo direttore artistico Roberto Manca. Il popolo della famiglia, molto critico verso il patrocinio di Regione Comune allo spettacolo, non si è aggiunto ai tantissimi spettatori della serata, tra i quali si aggiravano anche, preallertati, alcuni poliziotti in borghese, ma tutto è filato liscio nelle tre ore di sfide soft, canzoni, dialoghi col pubblico e solidarietà. Il prologo 70's con Shake Your Booty innesca subito un clima scanzonato nel quale si inserisce il team fuori dal comune, se stetto in apparenza ordinaria ma pronto agli straordinari col trio delle drag. Darla Fracci, Taylor Monroe, Rebecca Drag, alter ego nell'intro di Whitney Houston, Gabriela Ferri e Lady Gaga partecipano a duelli di tiro alla fune e cultura generale, prestandosi, nonostante tacchi trampoli e outfit esplosivi, a sprinti a 100 metriste per una riveduta versione di Ruba Bandiera o il divertente richiamo, coordinato da Lori Warner, all'aerobica anni Ottanta di Jane Fonda. A completare l'intrattenimento i pezzi rock dei Carasau, le esibizioni dei ragazzi di un bullo da palcoscenico, altro progetto di manca ad alto tasso sociale. Un'operazione inclusiva, ribadita anche sabato, in riferimento alla chiave della serata, superare i limiti, colmando le distanze e superando discriminazione e ignoranza. E aiutando in modo concreto chi ha bisogno, metà dell'incasso verrà infatti devoluto a Rachele, una bambina di Alghero in cura Firenze. Alla sua salute ha contribuito, sabato scorso, anche la famiglia allargata degli spettatori di Missione Drag.